Grazie mille, inizio a presentarmi, mi chiamo Giuliano Ambrosio, sono un creative strategist freelance con base a Torino, sono conosciuto sul web come Julius Design, del omonimo blog aperto nel 2007 dove fino a oggi condivido strategie digitali, comunicazione web, social media e digital. Ho avuto la fortuna di collaborare con diverse agenzie da Armando Testa a GVT a Sacensacci dove mi hanno permesso di collaborare con diversi brand, anche qui come dico spesso io ho dei bei giocattoli, quindi da Abarth, Motivi, Gillette e mi hanno permesso di maturare molto la mia esperienza in campo strategia digitali. Da gennaio 2016 sono sempre creative strategist freelance in esclusiva per Aquest, un'agenzia digitale e creativa di Verona con sede anche a Londra, focalizzata appunto su tutta la parte creativa e diciamo strategie di social media marketing. Una realtà che attualmente è l'agenzia più premiata a livello internazionale proprio per la creatività dimostrata, potete vedere poi sul portale Awards, quindi con le tre W Awards molto conosciuto come portale, Aquest si classifica come terza agenzia a livello internazionale, pensate a livello italiano è la prima agenzia più premiata, quindi hanno dei progetti digitali molto belli e sono molto orgoglioso dal gennaio appunto 2016 di farne parte in esclusiva e io attualmente seguo la Business Unit Social con tutti i nostri clienti. Oggi voglio partire con una delle frasi che avrete sicuramente sentito, quindi the content is the king. Io qua potrei domandarmi adesso velocemente, secondo voi è vero? Sì? No? Dipende? Abbiamo tempo davvero proprio stretto? Quindi rispondo io, nel senso sì, the content is the king, ma oggi non basta più, quindi cosa vuol dire? Se io ho un contenuto di valore lo posso andare a pubblicare sul mio blog, sul mio sito web, ma non basta, perché se non riesco a fare determinate azioni rimarrà lì, quindi il re rimane nel castello, se non ho le finestre, se non ho dei sentieri, la possibilità di far uscire il mio contenuto e farlo visualizzare, il re rimane nel castello. Di cosa ha bisogno il king? Di un'altra cosa molto interessante, la regina. Chi è la regina? È una persona che appunto, come si suol dire, dietro ogni personaggio molto famoso c'è una donna, in questo caso anche dietro, diciamo, a questo king c'è questa queen, che in realtà è la distribuzione, quindi riuscire a essere capaci di distribuire il proprio contenuto di valore nel modo migliori, ma anche di, diciamo, dare la possibilità a chi sta leggendo il nostro contenuto, agevolarlo nel condividerlo. Quindi oggi appunto il focus è sui social media, quindi come rendere un post, diciamo, più appetibile per un utente anche a livello social, quindi ok, il contenuto è di valore, poi quell'utente, quel lettore deve essere in grado di aiutarmi a distribuirlo, ok? Diamo un'occhiata a un'anotomia di un social post blog, l'ho chiamato in questo modo. Allora, qui banalmente possiamo vedere una struttura di un post, potrebbe avere ovviamente un titolo, un incipit delle immagini e dei contenuti, altre immagini, video, eccetera, eccetera. Se andiamo a individuare come lo possiamo trasformare in un social blog post, sicuramente le prime idee possono essere, ok, andiamo a integrare la possibilità di condividerlo sui social network, quindi banalmente possiamo pensare, ok, andiamo a inserire i social plugin per condividerlo su Facebook, su Twitter e sugli altri canali, ovviamente. Oppure anche avere la possibilità di offrire all'utente di condividere sempre il mio stesso articolo, anche quando scrollo la pagina, quindi avrò una porzione di pulsanti che mi permettono di condividere questo post sempre in sovraimpressione, anche quando scrollo la pagina, questi io non li perdo più a livello visivo, ma mi rimangono questi in sovraimpressione. Altri aspetti interessanti, quindi i primi due possiamo arrivarci, ci sono dei plugin, poi dopo vi farò vedere. Quello che io consiglio, attualmente per questi due primi metodologie è sicuramente i social button, quindi la possibilità di condividere l'articolo subito sotto il titolo, quindi subito sotto il titolo dell'articolo inserirli. Molti dicono anche a fine articolo. Sì, mettiamoli, però quelli che convertono di più sono questi. Convertono in due modi, convertono nel farmi capire subito quanto è stato condiviso quel post, quindi a livello psicologico le persone che atterrano sul mio articolo, se vedono che questo articolo è stato condiviso 200-300 volte, saranno molto più propensi a fare due cose, continuare a leggerlo e a condividerlo. Quindi da qui gli darò subito accesso. Quando un utente cerca un'informazione e potenzialmente arriva da Google, la prima cosa che fa, atterra, legge il titolo e scorre molto velocemente per andare a individuare le parti che gli interessano davvero. A noi ci rimangono poi questi social plugin che mi permette sempre di condividere l'articolo, ma rimangono sempre in prima vista. Altri aspetti interessanti sono la possibilità di andare a integrare delle porzioni di testo che mi permettono nuovamente di rendere questo pot social. Cosa vuol dire? Ho la possibilità, tramite plugin o codice nativo, come vedremo dopo, di andare a inserire degli incipit testuali che vanno a stimolare il nostro lettore a condividere una porzione di una nostra citazione, di un concetto che stiamo scrivendo all'interno dell'articolo su Twitter, su Facebook, su quello che vogliamo. Quindi qui banalmente se sto parlando di un articolo, io qui potrei inserire una citazione su un'analisi, quindi oltre il 30% dei siti e-commerce usa WordPress, quindi il mio articolo descrive, approfondisce, approfondisce, ma qui ci potrebbe essere l'incipit che dice quella frasettina lì interessante e qui sotto avrò la possibilità, con un clic, di andarlo a condividere con l'account dell'utente del lettore. Quindi io arrivo qui, interessante questa cosa del 30% di e-commerce, quindi vuol dire che c'è una fetta di mercato ancora molto più aperta, condivido. Quindi qui do ancora la possibilità di condividere questa porzione di testo che in realtà ovviamente va a condividere l'articolo intero. Può essere qui come può essere in altre parti del mio post, a metapost, a fondopost, quindi in altri punti strategici. Un'altra cosa interessante ovviamente è tutta la parte dei social comments, quindi la possibilità di andare a integrare dei commenti derivati dai social network, quindi non più commenti nativi all'interno del post, ma commenti che derivano dai commenti di plugins di Facebook o di Google+, quelli incentivano ovviamente la possibilità poi di distribuire in modo maggiore tramite un commento di un lettore il nostro articolo. Come vedete appunto qui io poi ho la possibilità con queste metodologie cercare di distribuire in modo migliore il mio articolo. Dopo vedremo anche che ci sono dei metatag da integrare molto interessanti che mi permettono anche di essere pronto ad essere accolto sui social network il mio post. Quindi essere accolto per me cosa vuol dire? Uscire con l'anteprima giusta del mio articolo, col titolo giusto, con la call to action corretta. Vediamo un social post in azione, ovviamente sperimento su me stesso e sul mio blog dove appunto mi potete trovare con Julius Design anche su tutti i social ma anche sul mio blog dove appunto condivido le mie strategie. Quindi qua riuscite a individuare un po' quello che vi dicevo prima sicuramente. Quindi andiamo prima a analizzare il post. Abbiamo questa possibilità di condividere l'articolo e rimane sempre in prima visione. Quindi anche quando scrollo l'articolo sicuramente i pulsantini social network, dei social network di condivisione subito sotto il titolo che è quello che cattura più l'attenzione. Poi in questo caso abbiamo altri due elementi che non fanno parte del post ma sono cross post. Quindi qui c'è la possibilità per esempio di farti visualizzare il mio ultimo tweet che ho postato dal mio account. Quindi cross post io già qui ho un'altra possibilità di aumentare la distribuzione di questo articolo e qui ovviamente qua banalmente ho i miei account social iconizzati. Se andiamo ancora un po' scrolliamo l'articolo troviamo come vi dicevo sempre questo è il sovreprensione perché è sempre lì che ci guarda e ci dice lo condividi, lo condividi, guarda che comunque guarda che condivisioni che attualmente ha questo articolo. Quindi a livello psicologico vi dicevo le cose di prima. Un'altra cosa come vi dicevo l'incipit con la possibilità di far retweettare. Quindi qua vedete ho inserito in questo caso un altro articolo che faceva parte sempre dello stesso filone di tematica di Instagram e quindi tu stai già visualizzando degli articoli di Instagram. Potrebbe essere interessante anche questo. Quindi qua ti faccio vedere. Guarda quante volte è stato retweettato. Con un click si apre la dialog box di Twitter nativamente e con un altro click è stato pubblicato sull'account della persona. Quindi capite che con due click ho aumentato la possibilità di condividere in questo caso addirittura un altro articolo con un altro articolo. Quindi non ho condiviso questo articolo ma ho condiviso un articolo che diciamo era affine alla tematica. Quindi io posso andare a condividere lo stesso articolo oppure anche un altro. E quindi qua invece sempre cross ho la possibilità di farti vedere la mia presenza social e con un click anche qui atterrare sulla presenza. Qua banalmente sono i commenti derivati da Facebook che se prima ogni commento generava un post sulla bacheca dell'utente adesso non più ma entra nelle attività. Quindi l'amico di Stefano Rosalia molto probabilmente gli amici di questo ragazzo potrebbero visualizzare il suo status e la sua attività nel newsfeed che ha commentato sul mio articolo. Capite che questo aumenta la distribuzione e visibilità dell'articolo. Anche in mobile dobbiamo essere sempre pronti quindi avere un'altra visualizzazione corretta e pronta. Andiamo velocemente a vedere i plugins interessanti. Allora qua io poi nelle slide potete trovare tutti i link. Mi like per avere tutti i metatag pronti e utili per avere un anteprima, un titolo, una descrizione corretta che vengono prelevati dal nostro articolo. Ricordiamoci anche che io sono della filosofia che ho i plugins ma quando posso farne a meno cerco di integrare il codice nativamente. Quindi non spaventiamoci di questo codice perché io per esempio per questa parte qui non uso plugins ma ho preso il codice e l'ho integrato nativamente nel mio blog. Molto più veloce, non uso risorse di plugins esterni e ho meno possibilità che mi bucano il mio blog perché è stato bucato il plugin per dire. Quindi non spaventiamoci perché vedete che il codice è molto semplice. In questo caso sono i metatag di Facebook quindi abbiamo l'oggetto titolo, l'oggetto immagine, l'oggetto descrizione, la URL e il sito del nome. È davvero banale. Usare un plugin per questo, io lo sconsiglio però fate un po' come volete. Io appunto ho integrato direttamente il codice e mi sembrava molto più veloce. Stessa cosa per Twitter. Anche qui Twitter ci sono i metatag di Twitter cards, c'è un plugin molto interessante che integra questo codice che può spaventare ma che in realtà è molto simile a quello di Facebook. Nuovamente con tre linee di codici noi possiamo inserire questo codice all'interno delle nostre pagine articoli dei post. Ovviamente qui si andranno a personalizzare con i short code, quindi non vado a inserire manualmente il link del mio articolo ma inserirò PHP, permalink eccetera eccetera così si autogenererà e non uso troppi plugins. Questo invece per i plugin social button che utilizzo sotto il titolo, in questo caso lo utilizzo perché sono interessanti, mi danno anche statistiche native, easy social share buttons. Tweetease può essere utile per fare quegli incipit all'interno dell'articolo, per farli pubblicare in tempo reale. Anche lì però io poi utilizzo codice nativo, però questo è un plugin che ci permette direttamente di farlo. Social sharing ci permette anche qui invece di avere quella barrettina sempre fissata, sempre in prima prospettiva. E qui abbiamo altri plugins che vi consiglio, sono un po' diversi ma fanno un po' scena, nel senso clicco, vedo una torta, i social, sono carini da vedere. Concludo con farvi anche un po', darvi un po' un'attenzione su, sempre sulla parte di social post, di essere attenti sui nuovi plugin che usciranno per gli instant article di Facebook, quindi gli articoli che saranno molto più reattivi, molto più veloci perché vanno a leggere porzione di codice in stile feed, in questo caso Facebook, quindi vanno a togliere tutta la parte di design, di loghettini, altre cose varie, ma cercano di velocizzare molto di più l'articolo. Quindi un articolo condiviso in Facebook con questo plugin, penso dal 12 aprile che ci sarà la conference di Facebook F8, verrà reso disponibile per tutti e il tuo articolo sarà molto più veloce in lettura all'interno di Facebook. C'è un plugin di automatic, qui lo potete trovare, molto interessante. Concludo con Google AMP, anche qui un po' stessa cosa, un progetto di Google per ora solo per le testate editoriali, ma potenzialmente potrà essere espanso per altri blog. Quando io faccio una ricerca, se ho AMP all'interno, avrò la possibilità di essere visualizzato con un anteprima un pochino più grande o anche solo con un titolo e la visualizzazione del post è più reattiva, è velocissima, perché appunto questo è un progetto di accelerazione del caricamento delle pagine da parte di Google, molto simile a quello di Facebook, quindi va a togliere tutti i front di design, di codice, di plugins e va a visualizzarti subito il testo, il titolo, le cose che servono. E quindi essendo molto più veloce, diciamo, si verrà molto più posizionato a livello di SERP e anche l'utente se sta cercando un'informazione a track la trova subito, non aspetta neanche quei 3-4 secondi di caricamento della pagina. Quindi questo è interessante. Attualmente ci sono anche qui diversi plugins che ti permettono di essere, diciamo, idoneo a questa tipologia di accelerazione. Anche qui a maggio ci sarà un evento di Google, si spera che in quell'evento lo rendino disponibile per tutti. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie mille. Anche qua abbiamo tempo per una domanda. Se c'è? C'è. Riguardo ai tag da inserire nel codice per l'ottimizzazione sui social, tu intendi nel singolo articolo? Praticamente sì. Nel lato HTML del singolo articolo? Sì, a livello di struttura del tuo tema di WordPress si vanno a prendere, diciamo, in questo caso la single.php che governa, diciamo, l'articolo singolo magari, o leader.php e si vanno a inserire questi metatag short e short.php code che ti permettono di generare poi le informazioni che vuole quella tipologia di codice, quindi il permalink, l'immagine in anteprima, quindi comunque si va a intervenire all'interno della struttura del template. Grazie. Prego.